buona mattinata buon sabato cari telespettatori e benvenuti alla rassegna stampa di telemia e come già vedete in primo piano partiamo con il nostro sito internet che ci fa vedere se volessimo anche dare uno sguardo alle notizie dell'ultima ora vedete già in copertina parliamo di virus di covid vediamo meglio risalgono i contagi in calabria più 77 più della metà nel cosentino ovviamente si stare risolta qualche giorno nessun decesso andiamo avanti alla tragedia di soverato muore sul colpo una 53 anni investita ieri all'alba da un'auto e qui le immagini del drammatico incidente purtroppo la donna è morta quasi sul colpo ancora green pass che per bar e ristoranti l'ipotesi adottare le stesse regole della francia è un'ipotesi ma c'è gran parte del parte politica delle coalizioni politiche che è contraria all'utilizzo del green pass per bar e ristoranti ma si parla di lunghi viaggi e naturalmente eventi in calo i contagi vedete questo è il giorno precedente e poi l'incendio di vastissime proporzioni che devasta contrada maria e calcinara di roccella ionica un'abitazione gravemente anneggiata dalle fiamme guardate questa montagna che praticamente è tutta a fuoco immagini veramente incredibili andiamo avanti lasciamo queste pagine che riguardano diciamo i titoli principali andiamo sul contro copertina da semplificazioni di le semplificazioni occhiuto annuncia 40 milioni per la regione per combattere i rischi idrogeologico idrogeologico ed idraulico oliverio che caporruppo di forza etale e poi reggio calabria azione così si consegna la calabria ai sovranisti andiamo ancora avanti in dranga da progresso cassa continua arrivano sette condanne lasciamo anche poi c'è l'incendio ovviamente di ieri le immagini tutte drammatiche che abbiamo mandato in diretta ci spostiamo ancora all'interno a proposito di come si dice a proposito di incendi e vedete proprio la campagna che stiamo diffondendo dell'antincendio boschivo non bruciare il futuro è quella che è appunto in onda in questo momento sulla nostra emittente lasciamo il nostro sito internet e andiamo su il quotidiano della calabria vedete i titoli principali emergenza rifiuti la soluzione alimenta barricate e carta bollata purtroppo l'ordinanza regionale che apre a tutta la calabria la discarica di crotone è un vero problema i sindaci appunto annunciano un ricorso al tar e si dicono pronti alle dimissioni quindi è guerra sui rifiuti e poi l'editoriale il governo draghi lavora i politici giocano roberto napoletano lo scrive covid serve un solo divieto mettere a rischio la ripresa prodotti e poi gli eventi devastanti il clima prima emergenza mondiale movimento 5 stelle il patto della spigola e la lisca che rischia di andare di traverso acqua lo scandalo silenzioso dello specchio di Filippo Veltri mentre al centro pagina troviamo ancora la fotonotizia covid in Calabria aumentano i casi ma non i tamponi appelli alla prudenza ad apriliano green pass per gli eventi estivi c'è un problema di aumento dei casi tropea cadaveri bruciati al cimitero ho chiesto il processo mentre soverato mi si è uccisa mentre porta a spasso i cani la nonna di 53 anni e sulle regionali è ufficiale tanzi si schiera con la Bruni andiamo l'ex polveriera torna al demanio l'assessore albanese giornata storica per l'intera città finisce un'epoca ultimi sgomberi famiglie trasferite in case confiscate e poi abbiamo cerimonie a Trento Laura Donomem a Megalizzi l'elogio di Mattarella il giovane ucciso di origini calabresi e qui viene naturalmente indicato lasciamo il quotidiano del sud e andiamo su Gazzetta del Sud anzi correggiamo perché siamo su un'altra edizione dicevamo Gazzetta del Sud del 17 luglio vedete regionali Oliverio tenta la rivincita Bruni e Tanzi trovano l'intesa si allarga il campo del centro-sinistra l'ex governatore di nuovo in campo sbaglia grosso chi nel PD pensa che io stia scherzando e poi Reggio città invasa da topi e conseguenza del caos rifiuti il sindaco Ciccone sono turbato per la mia famiglia per quanto accaduto lo ricordiamo Ciccone il sindaco di Scilla era nel mirino dei clan volevano rapirlo Reggio è l'accusa della DDA su racket delle onoranze funebri a Gebbione il GUP infligge sette contanni nel processo cassa continua e poi in basso stime 2021 il PIL accelera nei mesi estivi Banca Italia vede un più 5,1% l'emergenza la regione ipotizza di spedire fuori 10.000 tonnellate di nostri rifiuti andiamo sulla fotonotizia con il Green Pass come vedete in primo piano in Gazzetta del Sud e parliamo invece della Germania che è devastata più di 100 vittime una catastrofe a causa delle inondazioni i dispersi sono 1.300 i morti e danni ingenti anche in Belgio vedete quanti alluvioni quello che sta accadendo torniamo sul discorso della variante Delta cresce in tutta Italia verso il prolungamento dell'emergenza più casi tra i giovani incentivare le vaccinazioni con i Green Pass questo e ora diventa un obiettivo il Covid cresce ovunque più colpiti i ragazzi indice di contagio allo 0.91 il governo è pronto a imporre da capo restrizioni se necessarie nel milanese violenza sessuale su 7 bambini prete ventinomene gli arresti domiciliari e poi Afghanistan ucciso in uno scontro il reporter indiano premio Pulzen e qui vedete il nome Danish Suddiqui andiamo in basso sempre Gazzetta del Sud il decollo tra 6 mesi dell'ITA sindacati poco convinti la flotta e i tagli occupazionali e qui vedete ITA una foto dei nuovi velivoli l'ex all'Italia trattativa diretta 4 bandi di gara molto da chiarire il trio ovvo a Gwembrin ecco le onnificenze gli azzurri d'Europa nominati i cavalieri ci ha pensato Mattarella è morto libero De Rienzo a soli 44 anni interpretò Giancarlo Siani il giornalista ucciso dalla camorra l'attore trovato senza vita in casa la procura ha disposto un'autopsia talento versatile in discorso vince vinse un David di Donatello conquistò tutti con ehm forza pace vedete eccolo qui Giancarlo Libero De Rienzo vedete a soli 44 anni trovato morto lasciamo Gazzetta del Sud eh il portale dell'emilia l'abbiamo già visto ci spostiamo invece con ehm calabria.live il quotidiano diretto da eh direttore Santo Strati eh più letto dai calabresi nel mondo e e ripercorre anzi meglio riparte con il titolo mare e spiaggia deturpate in Calabria serve una svolta su rifiuti abbandonati quindi eh quanto viene inserito in copertina serve intervenire a livello regionale sul tema di gestione dei rifiuti l'ente green intanto lancia la campagna ricicla estate la raccolta differenziata ti accompagna in vicinanza di 30 eh in vacanza in 30 comuni calabresi l'ultimo report di recambiente rivela che la nostra regione sono solo sette comuni sono plastic free e poi lasciamo ancora questa pagina questo titolo principale andiamo criminalità organizzata cgl calabria attivare strumenti utili che ci sono nel codice antimafia mentre ho chiudo ho voluto incontrare il Nobel cecano vedete a Roma per il Dubeco Institute mentre a Giannuzzi la calabria è vittima dell'ennesimo scippo parla a Giannuzzi sui fondi della cultura mentre aeroporto di Reggio Sacal finanziati nuovi progetti di ristrutturazione andiamo sul Reggino vedete anzi al centro Falcomatà serve una vera e propria norma del Tuel vedete mentre 2 milioni per ammodernare le aziende in agroalimentare domani a Bova Bova Life ricorda appunto Giuseppe Viola un grande italiano di Bova c'è un incontro per ricordare andiamo nel finale di Calabria.live a Pratia e San Luca al via le attività estive dei punti luce Save the Cinder oggi l'evento mediterraneo è Tarantelle mentre l'incontro su agroalimentare è identità mentre poi è a Gioia Tauro a Chiara di Carpignano vince la sezione indipendente del festival di Cannes ed è ambientato a Gioia Tauro l'Ipsed Ixit e del vescovo Bertolone lasciamo questa pagina del quotidiano appunto Calabria.live torniamo su Gazzetta del Sud andiamo all'interno a sfogliare il giornale Green Pass più incisivi e nuovi parametri ecco qua il governo si appresta ad affrontare una settimana decisiva riunione del CTS tra lunedì e martedì decreto i ricoveri avranno peso prevalente lascia abbassare sopra la seconda dose anche per i ristoranti palestre e piscine oltre che per i viaggi a lunga percorrenza lo stato di emergenza sarà prorogato quindi i ricoveri avranno un peso prevalente però lascia abbassare solo dopo la seconda dose quindi serve la seconda dose di vaccino e si pensa per l'utilizzo anche per ristoranti palestre e piscine oltre che per i viaggi a lunga percorrenza esplode la domanda di certificati verdi falsificati e qui ci sono le indagini ci spostiamo all'interno la curva epidemica risale soprattutto i giovani colpiti dalla variante delta impennata dei contagi fari sulle intensive vedete purtroppo la curva sta risalendo e i giovani sono quelli più colpiti dalle varianti il rischio indice 1,24 tra una settimana ieri 11 decesse quindi si sta di nuovo risalendo vaccinazioni e pressing sul personale scolastico e poi torna il coprifuoco a Barcellona a Roma focolaio notti azzurre il delta imperverso e arriva la gamma Banca Italia il PIL accelera effetti su consumi e lavoro le assunzioni compenseranno i licenziamenti misure di sostegno e recovery stima più del 5,1% e poi blindati i fondi UE 40% al meridione opere green arriva il nuovo statuto alta tensione su giustizia Conte verso la leadership lunedì incontro con Draghi c'è un nodo da sciogliere il movimento 5 stelle e la riforma cartabia quindi il nodo sulla giustizia è qui Giuseppe Conte Banca Italia il PIL accelera effetti sui consumi e sul lavoro misura di sostegno recovery stima più del 5,1% e poi vedete Rai ok a Fortes e Soldi ora confronto in vigilanza l'amministratore delegato e presidente quindi hanno avuto un ok lasciamo le pagine di Gazzetta del Sud Antonio Megalizzi l'Europa la passione e la democrazia il riconoscimento poi ancora violenza sessuale su sette bambini giovane sacerdote ai domiciliari si tratta di Emanuele Tempesta che a 29 anni è stato allontanato dalla parrocchia abusi e di vede di avvicinamento per seminarista temeva di essere aggredito uccide la moglie 63enne un commerciante nel napoletano accoltellamento fatale gravemente ferito il presunto giovane il presunto e giovane rivale pensate un po' a 63 anni insomma missionaria assassinata in Peru 4 arresti i due rapinatori autori materiali e due ragazze complici residenti nel centro educativo e poi ancora due violenti scosse un nebbato norcia trema ma niente danni ancora vivo il ricordo del sisma del 2016 germania sotto shock oltre 100 morti allerta ancora altissima continua a piovere a dirotto anche su Belgi Olanda e Svezia quindi questa pioggia che arriverà dovrebbe arrivare domani in Calabria anche in Svizzera abbiamo visto i danni guardate l'alluvione che cosa hanno provocato interi vellaggi devastati i dispersi sono 1300 e la rete telefonica è da ore in tilt ucciso un fotoreporter premio Pulitzer vedete in Afghanistan in uno scontro a fuoco andiamo velocemente sulle altre pagine e poi c'è l'inserto su cultura e spettacoli che come al solito Gazzetta approfondisce dopo lo sport andiamo in Calabria oggi in campo per la ricandidatura sbaglia chi pensa che io stia scherzando lo dice l'ex governatore della regione Mario Oliverio che tetterrà la rivincita dopo il niente del PD alle elezioni 2020 Bruni c'è un sinistra in casa il sostegno di Tanzi e delle sue liste quindi e qui avete Mario Oliverio e Maria Bruni ancora c'è Tanzi e De Magistris insomma un bel quadretto che gravita ora tutto a centro sinistra rifiuti la regione valuta di inviare fuori Calabria ben 10.000 tonnellate l'emergenza senza fine nel settore sarebbero gli scarti prodotti in estate i costi sono veramente esorbitanti ma c'è poca scelta andiamo in basso Covid risalgono i contagi sono 37 i nuovi casi nel Cosentino altri 42 positivi 27 nel Regino ma nessun decesso e qui poi sono 27 anche nel Regino non sono pochi insomma la curva sta strunando a salire il direttore della sede di Cosenza De Medio Crucitti lascia il servizio attivo e va in pensione 10 anni di successi per la RAI calabrese e qui c'è un articolo dedicato al direttore della sede RAI e lasciamo ci spostiamo all'interno Reggio fallimenti fantasma per frodare creditori tre arresti tra le vittime anche fornitori dipendenti e l'erario la Guardia di Finanza ha sequestrato bene per oltre 5 mila di euro a Reggio Calabria e poi scilla lo shock del sindaco dopo lo scampato sequestro i fratelli Cimarosa rispondono agli inquirenti operazione Lampedra è sempre il primo cittadino turbato per la famiglia e quanto appunto emerge dopo l'operazione a Reggio invasione di topi e crollo della differenziata l'emergenza dei rifiuti mette in ginocchio la città tanto degrado a causa della presenza di immondizia non raccolta da tempo il comune commette presto un intervento e poi la denuncia del partito comunista aliano spettacolo indecoroso al cimitero di Modena ci spostiamo il parco è vivo e operativo e vuole aprirsi ai territori il parco d'Asporomonte il presidente Autolitano presenta le attività la nostra missione è recuperare le tradizioni conciliando il tutto con l'innovazione quanto dice Leo Autolitano presidente del parco d'Asporomonte e poi al via tre giornate dedicate al progetto del museo del mare l'annuncio del sindaco la grande opera diventa realtà dopo il finanziamento di 53 milioni e poi domani al Polimeni storia fantastica del bergamotto al circo del tennis alle ore 21 e 30 a Rocco Polimeni starà la presentazione del libro storia appunto del bergamotto di Filippo Arillotta Racket delle onoranze funibili il gruppo ha disposto sette condanne pene pesanti ad Antonio Laurendi e Paolo Falco reggono le accuse dell'operazione Cassa Continua e poi i capitali conquistati alle mafie risarcimento per le comunità il sindaco Falcomatà al workshop sui beni sottratti ai boss rimangano sul territorio per creare sviluppo su questo Falcomatà c'ha perfettamente ragione Regimo Iuli Masi ha inaugurato i caffè letterari mentre il CNA riparte da Fontana e Laganà vedete premiati l'Ingrea la Villa Arcudi e Pastetti per i 60 anni di attività confermati il presidente segretario dell'organizzazione degli artigiani delle piccole imprese un percorso da fare assieme Covid e da vincere successo a tre cifre i famosi cento i famosi centisti in questo caso del liceo scientifico da Vinci che hanno attenuto la maturità con il massimo dei voti e qui vengono messi in evidenza una serie di fotografie complimenti a questi ragazzi che hanno concluso un percorso di studi e ora ne inizieranno un altro si tratta ovviamente dell'università quindi complimenti a tutti questi bei volti riflettori accesi per altri tre super diplomati anche qua vedete istituti Righi e preti frangipane e si guarda ovviamente al prossimo anno come inizierà se sarà con le mascherine certamente sì santo femmio aumenta nei casi nella RSA il covid torna a far paura soprattutto tra i soggetti fragili il numero dei positivi è già salito a 19 un ricopero in ospedale e poi la vallata del Gallico pretende risposte interrogazioni di Forza Italia alla città metropolitana intervento atteso oggi si parla anche della progettazione della strada archi orti iris coronano le accuse assolti Rugnetta e la capria la sentenza per l'imprenditore e il funzionario dell'Inps il tribunale di Palmi ha pronunciato si pronuncia sull'inchiesta della DDA e poi fondi per i trazzamenti tipici della costa viola mentre il consiglio andiamo sotto verso la decadenza di missioni di massa seminara si prospetta alla comune un'improvvisa fase di commissariamento Carmelo Fuso il sindaco vede il commissariamento come una iattura un po' in effetti i commissariamenti lo sono Fausto in Cassazione punto favore dell'odontoriatra vedete Pisano vedete annullata l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il carcere per il professionista Rosarnese lo vedete Francesco Pisano destinatario dell'ordinanza di custode codelare e Mario Santabrogio difensore di fiducia dell'odontoriatra indagato l'avvocato Santabrogio nessun elemento concreto sull'uso dei metodi mafiosi riferito al professionista e poi ancora Sanferdinando agroalimentare parla di identità cultura identità il movimento nazionale fondato nel 2018 lasciamo anche qui notizie di cronaca e andiamo a Paparatto e Dimitrov hanno avuto giustizia la sentenza eclissi ribaltato il verdetto della corte d'appello soddisfatti ovviamente i difensori e poi via Liguria torna a respirare bonificata la discarica abusiva all'intervento straordinario ieri mattina a Gioia Tauro mentre in basso sempre dalla piana a città nuova minoranza sfaldata il consiglio comunale regala una sorpresa sulla relazione di inviare alla corte dei conti la maggioranza regge e poi arte musica teatro food ecco l'estate Taurinovese il cartellone di eventi fino al 9 settembre Candidoni si ricomincia a pagare l'acqua arrivano queste notizie brevi anche dalla Tirrenica ci spostiamo ancora in avanti la Spromonte e la Pastorizia Trasumante vedete è qui si arriva alla Ionica e si parla del un progetto internazionale multidisciplinare coordinato da Francesco Carrer dell'Università di Newcastle le ricerche saranno concentrate nel compressore Trafico Vecchio e Casal Nuovo partecipano allo studio anche gli esperti del Dipartimento PAO della Università Mediterranea e qui vedete a proposito di transumanza queste belle immagini incredibili belle da vedere tra storie e realtà anche sull'ambiente e il paesaggio un impatto abbia avuto la pastorizia transumante sui fragili ecosistemi della montagna calabrese una foto che la rende tutta e qua poi immagini anche di città nello sfondo di tradizioni che continuano in queste aree pre-asporomontane lasciamo queste immagini Palizzi vuole difendere il suo mare cerchiamo di capire meglio affidata a una ditta la manutenzione di due stazioni di sollevamento dei liquami parliamo dei depuratori che dice appunto ma i depuratori dei paesi limitro che funzionano bene altrimenti come per dire ogni sforzo sarà reso vano e poi uova di tartaruga carretta carretta depostate sulla spiaggia di Palizzi i titolari dei cinque lì di balneari vincono per ora la battaglia ma resta l'interrogativo installeranno le strutture merito il consiglio di stato consente l'esplettamento delle attività faranno in tempo vedremo e poi all'occhio la riforma della giustizia nomina per l'avvocato Minniti prestigioso incarico per l'avvocato Minniti nell'ambito della relazione normativa relativa agli ammendamenti presentati dal governo guidato da Mario Draghi nell'ambito del disegno di legge il presidente della camera penale di Locri Giuseppe Simonetti è stato nominato dall'ufficio di presidenza della camera dei deputati integrato dai rappresentanti della commissione di giustizia nella commissione parlamentare finalizzata alla proposizione di contributi normativi in merito all'emergenza in merito appunto agli ammendamenti presentati dal governo nel disegno di legge e quindi farà parte di questa struttura Platì dopo 20 anni a Platì ritorna il calcio soddisfatto il presidente Paolo Ferrara si ricomincia con grande entusiasmo dalla terza categoria andiamo in basso il consiglio le fondamenta del PSC Montebello domani la seduta sul documento preliminare lo ricordiamo il PSC il piano strutturale comunale l'ex piano regolatore per capirci famiglie in difficoltà in campo i volontari progetto presentato a Condofur l'iniziativa impatterà anche sui territori di Molocchio e Bagnara lasciamo anche questa pagina della Ionica e chiudiamo con la terza pagina l'Inps licenzia i dipendenti e chiude l'ufficio di Caolonia una decisione che penalizza l'intero territorio dopo l'operazione Caolombege la Gazzetta riporta questa notizia a dire il vero a distanza di 3-4 giorni rispetto a quando appunto è venuta fuori purtroppo sul licenziamento c'è sempre a discutere ma è un atto amministrativo non è certamente la conclusione di un procedimento penale per avere conoscere le cose in maniera appunto bisognerà aspettare le sentenze del procedimento penale che è partito a carico dei soggetti certamente la cosa che dispiace di più è il fatto che un ufficio del genere rimanga chiuso e non può erogare i servizi ai cittadini questo diventa veramente un problema delitto Cordì ricostruiti i movimenti della vittima con la corte d'assistica di Locri ve lo ricordate Cordì ucciso a Martone dai fotogrammi estrapolati da una serie di telecamere pubbliche e private poste tra Giulio Samarina e Giulio Saioni che i carabinieri hanno ricostruiti i movimenti che sono avvenuti la sera dell'11 novembre in particolare quanto riguarda il percorso effettuato da Cordì che è stato rinvenuto in cadavere due giorni dopo in località Scialata nel comune di San Giovanni di Gerage e poi Siderno gli interrogativi sull'impianto TMB non trovano risposte noi di è previsto un incontro pubblico sulla nostra problema e qui Aristobava ci spiega dell'incontro pubblico organizzato da noi per Siderno sul TMB alla presenza appunto di Carlo Tanzi delle sindaco di Locri Giovanni Calabrese e poi di altri esponenti il dibattito lo ricordiamo sarà moderato da Maria Teresa Creniti lasciamo anche questa pagina ci spostiamo Lucano di Giuna contro Draghi vedete sciopero della fame contro il governo che blocca le navi dell'ONG così non va chi fugge dai lager libici ha diritto all'asilo politico e poi tutti i colori del mondo fanno la Locri del più bello progetto della diogesi integrazione tra ragazzi stranieri e non attraverso i laboratori della Caritas diocesana mentre sulla bellezza di San Luca in un docufilm grande la grande bellezza di San Luca nel docufilm si tratta Lidatore Francesco Pelle un professionista che ovviamente è originario di San Luca ama il suo paese iniziativa di alcuni giovani che vogliono rilanciare il paese di Corrado Alvaro complimenti a tutti e noi appunto sosteniamo queste belle iniziative lasciamo anche la gazzetta del sud il meteo vedete la situazione è questa qualche nuvola oggi comincia ad arrivare pioggia nella Calabria stentrionale ma per domani è previsto qualcosa di più concreto si prevedono piogge quindi in questo weekend lasciamo la gazzetta dicevo e concludiamo con il con il quadiano del sud all'interno del quale appunto apriamo nei cambi di colore conterà il tasso di ospedalizzazione nuove parametri per evitare il giallo quindi il CTS dare maggiore significatività al Green Pass questo è il comitato tecnico scientifico per sensibilizzare un po' all'utilizzo allarme virus in vacanza a Malta verso il rimpatrio in Sardegna si pensa ai tamponi per i turisti in arrivo e poi torna il coprifuoco a Barcellona e le altre città della Catalogna e poi vedete in risalita la variante delta ma rimane l'occupazione dei posti letto nei singoli ospedali mercato dei Green Pass falsi in aumento in Francia la richiesta è salita del 5.000 per cento crescono i canali di comunicazione e scambio su Telegram incredibile si arriva anche a falsificare Green Pass vaccinare tutti prima possibile prima di settembre ovviamente la raccomandazione al CTS in vista del nuovo anno scolastico crescita esponenziale dei contagi sono 4 volte rispetto all'anno fa complice alla variante del virus quindi i contagi stanno risalendo quindi l'allarme purtroppo c'è sale l'attenzione nel centro-destra ricarichiamo la pagina il touch screen ci ha fatto questo scherzo dicevamo sale l'attenzione nel centro-destra più ombre che luce Meloni imbufalita per le nomine Rai Meloni è assolutamente arrabbiata per quanto ha cauto il Rai soldi riceve il parere positivo del CDA ora la battaglia si sposta in vigilanza in soddisfazione di Fratelli d'Italia per essere rimasta fuori la partita Fratelli d'Italia essendo all'opposizione non ha espresso diciamo nessun tipo di opzione sui vertici Rai e poi Laura Adonore Megalizzi l'elogio il presidente Martarella il ricordo del giovane di origini calabresi una ferita viva nella nostra memoria addio a De Rienzo vedete talento fuori dagli schemi è morto a 44 anni si è trovato morto un attore di grande professionalità e anche con tanti riconoscimenti mezza Europa devastata all'acqua almeno 125 morti e 1300 dispersi che vuol dire quasi morti perché insomma non si trovano non sappiamo che fine hanno fatto e in Germania vedete devastata scontro politico sui cambiamenti climatici ucciso il fotoreporter vedete col premio Pulzer di Reuters l'agenzia di stampa internazionale seguiva gli scontri tra le forze speciali di Kabul e i talebani andiamo avanti velocemente il rischio moderato non è ancora emergenza ieri 37 nuovi casi zero decessi questa è la nota positiva dei decessi contagi in aumento paura per i focolai a Cosenza rizzo verte variante delta prestominante accelerare con i vaccini bisogna accelerare apriliano green pass per gli eventi estivi il sindaco diritto alla salute viene prima della libertà dei novax e poi risenare i conti dal 2013 ad oggi l'aspe di reggio cerca un esperto indetto il bando per un legale esperto in contabilità e poi a Malta tornano da Malta quattro positivi i ragazzi avrebbero partecipato a una festa a Saline prima dei test leo regge l'impatto del covid bilancio in perdita di 660 mila euro nel 2019 3 milioni e 700 mila euro quindi l'azienda ospedale di Cosenza certamente non ha i bilanci tranquilli Calabria vedete i sindaci fanno ricorso al TAR sulla vicenda rifiuti prosegue la mobilitazione contro l'ordinanza regionale sui rifiuti in caso di esito negativo del giudizio di primo cittadino minaccia le dimissioni parla il signor di Crotone stanno continuando a stuprare il territorio dice e quindi una battaglia più che politica viene definita di difesa territoriale mentre mare sporco orso marzo gioca in difesa mosseremo i dati e fioritura di alghe domenica prossima conferenza sul tirreno soldi vedete stanziati Tanzi si schiera con la Bruni lo abbiamo visto oggi la conferenza stampa con la partecipazione del sindaco di Crotone adesione ufficiale di tesoro Calabria alla candidatura della scienziata quindi si allarga la coalizione di centro sinistra nessuna interlocuzione bilaterale tra PD e DEMA valuterà la coalizione il nuovo vedete centro-sinistra e qui vengono smentiti accordi particolari ho chiuto vado avanti tranquillo ferro faccio quello che chiede il partito infatti lo scontro nel centro-destra sulla vicenda RAI sul sostegno di Fratelli l'italia ha chiuto addirittura si è messo in discussione la Lega plaude ai controlli applauso dell'iniziativa preventiva il commissario vede saccomanno così la politica sarà libera da lobby lo sportello del Mise sul territorio firmata l'intesa tra Union Camera e Ministero dello Sviluppo Economico e poi il PRR fondamentale è altrettanto assistere anche le imprese e fornire loro consulente Campo Rom a Scordovillo riunione dal prefetto a Cadanzaro l'annuncio di Spirli investita mentre va a spasso con i cani impatto violentissimo con l'auto il conducente forse abbagliato da un raggio di sole tragico incidente nei pressi del palasporto disoverato vittima di una donna di 53 anni qui vedete il luogo dell'incidente e purtroppo la donna ha perso la vita la vittima si chiama Sabrina Perry e abitava nella zona ed era uscita di casa portando fuori come ogni mattina i suoi due cani e a passeggio mentre era in procidio di attraversare la strada che costegge il palazzetto dello sport della città appunto e sarà travolta da una Fiat Bravo condotta da un uomo originario di Cenadi a quanto si è preso però si sarebbe immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi alla donna la quale è deceduta poco dopo per la gravità delle ferite riportate nell'impatto con il parabrezza dell'auto e poi cadaveri bruciati chiesto il processo la vicenda di estimulazioni vedete all'interno del cimitero della cittadina parliamo di tropea il gruppo di Vibo ha fissato al 7 ottobre l'udienza preliminare per i tre indagati e qui le immagini dietro al cimitero ricordiamo tutti hanno fatto il giro queste immagini l'indaga la procura la guardia di finanza Crotone invece spaccio a conduzione familiare quattro arresti anche qua mentre tre arresti per Baccarotta Fra Dorenti nel Regino sequestrati beni per oltre 5 milioni dalle fiamme gialle Regine l'ex polveriera torna al demanio novità nello skyline Regino vedete gli ultimi sgombri famiglie trasferite in case confiscate e poi Falcomatà i capitali confiscate le mafie rimangano sui territori dice il sindaco della città metropolitana penalizzate pure le forze e l'ordine effetti collaterali indesiderati dell'isola pedonale la protesta del Siulp trasformati senza confronto i parcheggi da liberi a pagamento in via a Spromonte città a vocazione turistica se resta così solo slogan lo scrive Claudio Loiso presidente del Confessor Centri e utili strumenti normativi e societari notti d'estate al museo di Reggio Calabria per entrare dentro ponti e specchi della divina commedia vedete e poi dal marmo al digitale mercoledì seminario sul tema museo di Gesano per la mostra con esposte tre sculture risalenti al 400 e 500 sempre a Reggio Calabria al museo di Gesano e poi a Piazza Carmine giornate di solidarietà con il popolo cubano le muse al sesto appello spazio all'opera grido nel silenzio di Antonietta Siviglia e qui viene pubblicizzato l'appuntamento in provincia Sciglia Sciglia si stringe intorno al sindaco lo vedete Ciccone la politica è la parte sana della città rompe il muro di silenzio e si indigna per quanto poteva capitare al tentativo almeno l'intenzione di rapire per alcuni esponenti presunti esponenti del clan il rapire il sindaco per ottenere appunto delle concessioni dei maniali il nuovo video di promozionale del parco nazionale dell'Aspromonte realizzato dal regista calabrese Francesco Pileggi a Bova e poi da metà a luglio torna il parcheggio un terreno privato con entrate in via Italia concesso a titolo gratuito la giunta approva lo schema di comodato d'uso e poi non sono cartelle pazze a Villa San Giovanni andiamo sulla locura di costruita la caccia agli indiziati vedete la deposizione degli investigatori al processo per l'omicidio cordì la testimonianza dei carabinieri che eseguirono la perquisizione in casa e ancora sul processo cordì poi il popolo di mezzo di Gangemi a Bovalino al parco delle rimembranze la presentazione del libro narrazione epica estruggente candidato al premio Stega 2021 Stanno circunnavigando l'Italia in barca a vela sbarcheranno al porto delle Grazie i tre giovani marinai ecologisti eccoli qua ancora non sono arrivati ma già sappiamo che sarà la tappa appunto per i tre giovani hanno un'età compresa tra i 19 e i 21 cercheremo anche di ascoltarli per capire le motivazioni di questo viaggio a Caolonia il comandante della stazione Carabieri destinato ad altra sede un saluto al sindaco al Malesciallo Guarnieri lasciamo anche questa pagina e ci richiamo alla seconda pagina della Locride noi per Siderno no all'impianto si schiere il gruppo che sia la candidatura del sindaco Cotugno lunedì ci sarà un convegno che è condotto da Maria Teresa Decliniti legato proprio all'impianto appunto di Siderno l'impianto di trattamento dei rifiuti di Siderno con la partecipazione di Tanzi e del sindaco anche di Locri Giovanni Calabrese e poi monasterà c'è un nuovo testo e video dell'artista Crissi Alangara Nocera Corrado Alvaro sia presente nelle scuole d'Italia è un appello che parte da San Luca continua la campagna vaccinale contro il Covid a Samo dopo la zona rossa da mesi e tre morti per il virus e l'impegno dell'amministrazione comunale Piana in sei mettono fine all'era al fuso vedete si dimettono tre consiglieri di maggioranza e altre tante di opposizione quindi probabilmente il sindaco al fuso andrà a casa finisce anticipatamente l'era al fuso dopo le dimissioni di sei consiglieri a Seminara la viabilità si veste d'estate a Polistena e con la bella stagione arrivano le isole pedonali e poi lavori alla scuola Sant'Antonio e città nuova decisione del comune interrogativi sulle motivazioni risolto il contratto con l'azienda a Gioia Tauro Giuseppe Stilitano ammesso al prestigioso conservatorio di Milano in direzione d'orchestra complimenti palmi all'amministrazione dall'ok alla fiera di San Rocco ovviamente in un periodo di contagi bisogna stare molto attenti anche a questo tipo di autorizzazioni Streetbook Maisano guarda al futuro e punta nuovi traguardi l'assessore al lavoro per ripetere il successo di quest'anno quindi lo vedete in fotografia Bradimiro Maisano e poi revocata la misura di sovvivenza speciale a Ferrentino a Laureano di Bollerlo questa è la decisione andiamo in basso Rosarno italiano si diploma alla scala traguardo prestigioso per il ballerino mentre il progetto di educazione stradale per i bambini il comune di Taurianova omaggi i vigili di Nicotara e Coppola la consegna di riconoscimento ai vigili alle due donne appunto i vigili Nicotara e Coppa da parte del sindaco Roy Biasi e poi la rubrica la spiaggia di Marinella vedete oasi di pace relax dedicata all'estate così come facciamo noi con la nostra agenda all'interno di Tg tutti i giorni diamo gli eventi che si trovano in circolazione nella costa Ionica della Calabria così come fa anche l'Equodiano del Sud andiamo a vedere il meteo ecco oggi il cielo si manterrà un po' nuvoloso vedete il sole farà capolino qualche qualche pioggia anche potrebbe arrivare le temperature arrivano massimo a 30 gradi quindi si sono praticamente abbassate domani invece sembra che la pioggia sia più probabile su tutta la Calabria specialmente nella zona alta della Calabria vedete tre gocce quindi indica una intensità di pioggia le temperature continuano a scendere sia le massime che le minime e dopo domani invece cesserà tutto quindi nel senso che sparirà la pioggia e ricomparirà il sole e le temperature se andiamo a vedere torneranno a salire quindi è una pausa domenicale quindi un weekend non certo buono per il nostro meteo la musica leggerissima ha carezzato l'unica e qui su vedete il costume società e cultura del Quodiano del Sud che all'interno ci presenta anche poi a fase terminale lo sport andiamo sul nostro sito internet su www.telemia.it per conoscere e sapere se è tutto ok con l'ultima ora se c'è qualche notizia arrivata proprio adesso sembra di no appuntamento alla prima edizione del nostro DG alle 13.30 per naturalmente essere aggiornati con le notizie dell'ultima ora e che come sapete saranno riportate l'edizione del nostro DG non mi resta altro che augurarvi buon proseguimento con la programmazione naturalmente di Telemia ancora buon weekend ma attenzione fuori di scoppio oggi da Arita Severino in abbigliamento via Tenente Carella Roccella Ionica è arrivata la nuova collezione primavera-estate qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna dal classico al casual scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levis Trussardi Jeans Marella Surcana Linea 5 Gaia Live Sanremo Ingram e tanto altro scelgono con serenità poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta Rita Severino abbigliamento via Tenente Carella Roccella Ionica è la scelta giusta Nuovo punto vendita frutte e verdura Piscioneri via Cappelleri 126 Palazzo Frangipane Roccella Ionica direttamente dai nostri campi sulla tua tavola con la verdura fresca di giornata grande assortimento di frutta di ogni tipo esplettiamo servizio di consegna a domicilio per bar e ristoranti inoltre ci trovi in tutti i mercati cittadini frutta e verdura Piscioneri via Cappelleri 126 Palazzo Frangipane a Roccella Ionica l'amore per la terra a Roccella Ionica Anch'io uso unica di Medical Poltrone